C'è la squadra azzurra che va dal mantenimento del processo di palla mentre c'è il press anche furioso da parte degli inglesi che però non riescono ad arrivare sul pallone Maccarone, grande giocata, attenzione Maccarone, qui li vanno a tiro bellissimo gol di Maccarone un gol incredibile, ha girato l'avversario poi una bomba di sinistro e il pallone che si è infilato alla venta di Polo Robinson e questi amici è un super 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 gol Grazie a tutti